Nella terza giornata del campionato di eccellenza, la battipagliese di mister Pietro Pinto raccoglie la prima vittoria battendo 1-0 l'Eclanese. Decisivo ai fini del risultato è stato il sigilo del classe 2000 Carmine Senatore, autore del gol partito al minuto 26 del secondo tempo su un assist al bacio di Munard. Eclanese gli ha chiuso il match in 10 uomini per l'espulsione al 38esimo della ripresa di Pugliese. Tre punti preziosi che fanno morale in attesa di buone notizie dall'infermeria, infatti dovrebbe recuperare l'attaccante Fosso Piccirillo alle prese con problemi alla caviglia.